Faccio un esempio, la prima domenica di campionato ci sono state cose polemiche arbitrali, se domani magari l'arbitro sbaglia qualcosa che volete contro di voi, potrebbe essere sperimentalizzato e si potrebbe creare ulteriori polemiche, volevo sapere che ne pensavo o se sono cose che vanno a scontarsi. Anche io penso che a principi che arbitri fanno parte del calcio e ripeto se un giocatore non ci date 4, penso che si può dare anche all'arbitro se vale il giocatore sbaglia altri. Penso che come siamo tutti costretti a sbagliare, specialmente quelli che fanno, per me è normale, queste sono poi le precisazioni, penso che anche quelle rendono per migliorare.